In quel di Casarano, le pratiche relative alla questione societaria non sono ancora state definite, ma nel frattempo stanno circolando con insistenza crescente i nomi inerenti all'area tecnica rosso-blu. Come vi abbiamo già raccontato, Gian Piero Maci potrebbe decidere di ritirare le proprie dimissioni, tornando sui suoi passi e coprendo nuovamente il ruolo di presidente del Casarano. In attesa che il Maci Bis prenda ufficialmente vita, le Serpi starebbero lavorando sotto traccia, valutando la possibilità di ripartire con un progetto assai ambizioso. Per quanto concerne il ruolo di direttore sportivo, non sembra essere più in pollo l'ex Taranto Francesco Montervino. Nelle ultime ore sembrerebbero invece salite le quote di Carlo Musa, che nell'ultima stagione ha ricoperto il medesimo ruolo fra le file del Teramo. Musa conosce bene la Serie D. Nella stagione 2018-2019 centrò il salto di categoria con l'Avellino, per poi vincere anche la Paul Scudetto. Il nome nuovo è invece quello di Andrea Corallo, che ha lasciato il Nardò dopo otto anni. L'impressione dunque è che i tre possano contendersi il ruolo di DS, mentre per la panchina resta caldo il profilo di Vito Di Bari, reduce dall'esperienza di Andria, dove ha strappato la salvezza nel girone C di Serie C. L'alternativa al tecnico tranese consiste nella conferma di Monticciolo, che dopo essere stato accostato anche a Fasano e Brindisi, potrebbe ripartire proprio dal Casarano.